Agostino Perrone, detto Costantino, è candidato per il rinnovo del Consiglio Comunale di La Terza, la carica ovviamente di consigliere ed è anche candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia, quindi una doppia candidatura. E allora lei è un laertino doc che La Terza si potrebbe disegnare, anzi ridisegnare per i prossimi cinque anni e attraverso l'impegno comunale e attraverso quello regionale. Io sono convinto che se andiamo a governare sia al comune che in regione io voglio una La Terza bella, iniziando proprio dalla segnaletica, molto verde, il rispetto, cioè si deve notare la differenza. Lei vuole quindi puntare sulla vivibilità urbana? Molto, molto, perché diciamo anche le strade, non è che ci possiamo permettere di dire che sono perfette. Noi abbiamo pagato tanti danni sia alle macchine che alle persone nel centro urbano. Poi il risarcimento dei danni? Sì, abbiamo affrontato tanti contenzi che abbiamo perso le cause e quelle sono tutte somme che sono soldi tolte dai cittadini. Con riferimento alla sua candidatura regionale, invece, è necessario che effettivamente la Terza, come gli altri comuni della provincia di Taranto e la città di Taranto in primis, finalmente continuo, vengano considerate in regione. Spesso siamo stati, come dire, Taranto e la sua provincia è stata un po' la cenerentola, la sorellina povera, schiacciata dagli interessi di Bari, di Brindisi, di Lecce. Occorre che chi sarà eletto sia in grado di battere i pugni sul tavolo barese. Io sicuramente per come stanno le cose Fetto è in vantaggio e non avrò... Stando ai sondaggi? Stando ai sondaggi non avrò tante difficoltà, non c'è bisogno neanche di battere i pugni. La Terza merita questa considerazione, il versante merita la considerazione, perché chi ha trascurato il versante, tutta la Puglia, non è Fetto, è Emiliano. Lui andrà a casa perché ha fatto dei danni, ha lasciato dei danni, l'agricoltura e tante e tante altre. La sanità? La sanità soprattutto. Ha fatto, cioè in poche parole io faccio il mio pensiero, copia in colla la gestione regionale come quella che ha fatto l'opano alla Terza. Forse frequentano la stessa scuola.